Musica Ma hai visto? No, no, no Mi importa il più Per quanto riguarda la zona del Parco del Campo dei Fiori Sì, scelgissima. Sono bravata. È reformato per i primi massicci. Il massiccio del cale. Così, la pizziare, e... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.